Sono venuto per il fatto sulla mia casillazia, al senso del mio spazio famigliato, ancora la mia figliata. Buongiorno, sono, è l'infunzione che per me è forte. Benvenuti allo Yamaha School & Festival 2009. Vi dirò due cose, giusto, prima di iniziare. Iamaka Musica Italia, sempre molto attenta verso l'educazione musicale, ha deciso di organizzare questo Yamaha School & Festival, dove si esibiranno, dove si vedete voi, nove scuole che hanno iniziato i progetti lucratini insieme a Iamaka, durante tutta la giornata qui al Teatro Signorelli. Però Yamaha, visto che il punto è molto, si sente, perfetto, è molto orientata verso la diffusione della musica, contemporaneamente questa mattina si svolgerà all'auditorium Sant'Agostino la finale della Borsa di Studio 2009. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.